C'è un ricambio generazionale? C'è un ricambio generazionale che ha già il maggior numero di giovani, 57 mila giovani, la prima agricoltura per importanza anche in questo caso a livello europeo per numeri di giovani che o entrano o subentrano attività esistenti, ma soprattutto anche in termini di vivacità rispetto a un modo di fare impresa. Pensiamo a quello che si è realizzato in questi anni, ad esempio nel settore vitivinicolo, nel settore della produzione della birra agricola artigianale, nelle fasi di trasformazione. All'interno di questa attività ci sono sempre i giovani, quindi vuol dire che grazie a loro saremo in grado di competere ancora di più. Se questo lo andremo a legare ulteriormente a quello che sarà l'utilizzo di tutti gli elementi di carattere tecnologico che verranno messi a disposizione nei nuovi modelli di produzione agricola, io penso che non solo creeremo un meccanismo per il quale i giovani non se ne vadano più, ma che abbiano ben chiaro che è nell'agricoltura e nell'agroalimentare dove possono avere soddisfazione e possibilità di crescita anche imprenditoriale e di soddisfazioni personali in termini professionali. Diciamo che dobbiamo fare ancora molto, per quanto riguarda la politica europea ci sono forme di sostegno più sul secondo pilastro che sul primo legato ai giovani, noi invece dovremmo cercare di allargarle ulteriormente, è il motivo per il quale non bisogna oggi tagliare le risorse destinate alla politica agricola comune, ma addirittura bisognerebbe aumentarle, quando parliamo di Green New Deal dobbiamo portare più risorse sull'agricoltura per sviluppare anche le nuove tecnologie, non fare l'inverso, tagliamo le risorse della vecchia politica agricola comune e dalla stessa politica agricola comune vado a reperire le risorse che mi serviranno per fare politiche di carattere ambientale, sono due cose completamente diverse, la politica agricola comune è sostegno al reddito economico dell'imprenditore, il Green New Deal è una nuova sfida, le nuove sfide vanno accompagnate con nuove risorse. Ad esempio parliamo per quanto riguarda le fake news legate a due temi, etichettatura semaforo, NutriScore, l'evidenzazione a colori di quello che secondo alcuni un prodotto potrebbe far bene o male, e invece un modello cosiddetto a batteria che invece è la dieta che uno dovrebbe rispettare. E paradossalmente noi nelle prime forme di evidenziazione dell'etichettatura semaforo avremmo la maggior parte dei prodotti agroalimentari che sarebbero fortemente penalizzati perché verrebbero evidenziati col colore rosso o arancione, a differenza del fatto che invece il sistema di consumo e di alimentazione per i cittadini italiani ci porta ad essere il paese più longevole a livello europeo e il secondo paese più longevole a livello mondiale. Quindi siamo il modello da imitare, non il modello da combattere. Due elementi che ci portano a evidenziare quanto il tema anche delle notizie, come si fa in veicolare, diventerà centrale nelle politiche dei prossimi anni e i social saranno determinanti. Quindi sarà altrettanto importante creare una controinformazione utilizzando gli stessi strumenti ma dicendo le cose per come stanno e non invece creando un meccanismo per il quale interessi di carattere economico possono spostare quello che è l'abitudine dei cittadini, dei consumatori, ma che soprattutto per noi si traduce anche in un risparmio economico perché laddove c'è una corretta alimentazione vuol dire che c'è anche una più bassa spesa per quanto riguarda lo Stato membro in termini di sanità pubblica. Sicuramente sì, perché solo con l'utilizzo di questi strumenti. Oggi il 70% delle notizie che viene fatta veicolare sui social non è veritiera e per riequilibrare questo dato lo possiamo fare solo collaborando con gli stessi canali di informazione legati ai social, quindi Twitter, piuttosto che Facebook, piuttosto che altri. Quindi sicuramente sarà fondamentale trovare una forma di accordo e di verifica rispetto a ciò che viene fatto veicolare. Stiamo lavorando proprio con il governo italiano perché nelle prossime sedute anche di interesse più generale della Commissione a livello europeo venga portato questo tema in termini di dibattito. Diversamente noi rischieremo quello che è già avvenuto sul settore della carne per quanto riguarda una strumentalizzazione, una finta notizia fatta veicolare sui rischi che la carne avrebbe, la carne rossa avrebbe, di avere un crollo dei consumi dal 40% e contestualmente gli stessi gruppi di interesse che sostengono modelli ad esempio legati alla produzione di carne sintetica, cioè carne fatta in laboratorio. Allora dietro ad ogni notizia c'è un interesse economico e questo noi dobbiamo creare un meccanismo per il quale i cittadini e i consumatori siano realmente informati rispetto a quelli che sono da un lato i possibili rischi ma soprattutto nel non modificare, come dicevamo prima, una corretta dieta che ci porta a essere oggi il Paese comunque più longevo.